A nove anni si chiama Martina Vecchione ed è di Ostia ed è una delle partecipanti alla 66esima edizione dello Zecchino d'Oro. Come è nata Martina questa esperienza? Come ti è venuto in mente di partecipare allo Zecchino d'Oro? Una volta praticamente stavo andando a lezioni di canto e abbiamo pensato di dire alla mia insegnante di canto, Alessia Di Francesco, di fare un provino dello Zecchino d'Oro. Il provino è andato bene e ti sei ritrovata poi a fare lo Zecchino d'Oro. Che esperienza è stata? È stata un'esperienza molto bella dove abbiamo giocato tutte le sere con i miei amici a fare pigiama party e rimane così. Avete legato anche fra di voi insomma con altre persone? Sì, sì, molto. Provenenti da tutta Italia poi? Più o meno. Come nasce la tua passione per il canto? Quando è che hai cominciato a cantare? Allora, a cantare ho incominciato da piccola, piccola piccola nella culla quando mia mamma mi cantava I sogni sono desideri e la canzone della Roma. Senti, invece lo Zecchino d'Oro che canzone hai cantato? Cicciccocco, cioè canto, sono l'interprete di Cicciccocco, però al provino ho cantato Il panda con le ali e Volevo un gatto nero. Ah, un classico. Senti, questa Cicciccocco, l'ho detto bene, sì, di cosa parla? Di questo pulcino che si chiama Benamino, che all'inizio non importava nessuno di questo piccolo pulcino. Poi una persona l'ha trovato in una scatola, l'ha preso, se ne è preso cura e ha scoperto che lui sapeva cantare, ballare, suonare e giocare. Senti, tu continuerai a cantare, immagino come vedi il canto nella tua vita, tu vuoi diventare cantante oppure hai altri progetti? Sì, voglio diventare cantante, però mi piacerebbe tanto fare l'attrice. Per finire questa intervista un pezzettino della canzone ce la devi cantare, dai! Cicciccicciccocco, ciccicciccicciccocco, ciccicciccicciccocco, cicciccicciccicciccocco, ciccicciccicciccicciccocco. Il pulcino Beniamino non gli piace la ricotta perché è un po' salata. Il pulcino Beniamino preferisce panna cotta dolce e zuccherata. A presto! Grazie a tutti.